Vorrei presentarvi The Leaders. La formazione è la seguente. Arthur Blight, alto sax. Don Cherry, tromba. Chico Freeman, sax tenore. Kirk Likesy, piano. Cecil McBee, basso. Don Moye, batteria. Fra due minuti il gruppo è qui. Grazie a tutti. 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 Thank you. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.